E Gregorio Paltrinieri è in testa, Paltrinieri è in vetta alla gara degli 800 stile libero quando mancano poco più di una vasca e mezza mentre Gabriele Detti un po' più attardato si giocherà il podio, quattro nuotatori per il podio Gabriele Detti campione uscente, un po' più in difficoltà rispetto a Gregorio Paltrinieri che vira in questo momento in prima posizione Gregorio Paltrinieri ha tenuto saldamente la testa della gara ma deve stare adesso attento e mantenere il vantaggio deve stare attento all'incedere degli avversari soprattutto di Kristiansen, Paltrinieri se ne va, c'è luce tra lui e gli avversari Paltrinieri va a conquistare il primo oro evidato nella carriera per lui, negli 800 stile, lui che è già campione dei 1.500 andiamo a vedere in che posizione riesce a toccare Gabriele Detti purtroppo, Gabriele Detti campione uscente si ferma in quinta posizione, Kristiansen, Argento, Aubry, il francese Aubry, medaglia di bronzo Gregorio Paltrinieri, oro negli 800 stile, lui che è già campione del mondo nei 1.500 Gabriele Detti che era campione uscente nonché primatista europeo si ferma al quinto posto a te la linea